Oltre 84.700 morti, 1.564 vittime nelle ultime 24 ore, mai erano state così tante. Torno atroce e peggiore che nella prima ondata la conta dei morti da coronavirus in Gran Bretagna. Il paese più colpito d'Europa e anche il più criticato per la mala gestione dell'epidemia ora conta sul vaccino. Già 2,6 milioni di cittadini lo hanno ricevuto e il primo ministro annuncia un'accelerazione ulteriore. Vaccineremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non appena possibile. Il segretario alla Sanità ne parlerà meglio a tempo debito. Dopo la Gran Bretagna viene l'Italia che oggi ha superato la soglia delle 80 vinila vittime per Covid-19 e dove si pensa a un nuovo decreto, l'ennesimo. Secondo la prima bozza, gli spostamenti tra le regioni potrebbero essere vietati fino al 5 marzo. In Francia i nuovi positivi viaggiano al ritmo di oltre 20.000 e si parla di nuove restrizioni. Confinamento coprifuoco più stretto, si saprà questo giovedì. L'1% dei test positivi ha rilevato la variante inglese. La Svizzera pure ne è infestata e proprio per questo le autorità locali hanno ordinato la chiusura di tutti i negozi non essenziali e torna anche l'obbligo di lavorare da casa. Il virus continua la sua corsa anche in Stati Uniti, Brasile, Messico e Russia qui il presidente Vladimir Putin ha ordinato al governo di velocizzare la campagna vaccinale di cui hanno beneficiato finora un milione e mezzo di russi. La direttiva prevede di iniziare massivamente con tutta la popolazione la prossima settimana. Ovviamente con il vaccino russo Sputnik, vaccino che il presidente ha definito il migliore al mondo.